E per me è un grande piacere incontrarti perché tu sei veramente un grande giocatore vecchio stampo e io sono diciamo della Roma, però grande first play perché tu con Prunusco eravate in amore E adesso andiamo ad amore d'accordo, vedi com'è la vita, in campo ci scanniamo e poi fuori dal campo ci arriviamo Ma è così, ma eravate comunque diciamo eleganti, menavica e menavica Ti piacciono anche le difensioni che non me ne, no? No, 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 stop perché Mela non menava Basta, Mela pure menava Senti, io ti voglio far fare un saluto a tutti i tifosi tuoi, a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre Sergio Grazie, un saluto a tutti, seguiteci sempre sul Rai Radio 1, un abbraccio a tutti e Forza Italia Forza Italia, dai adesso andremo bene e Forza il fair play di qualunque squadra uno sia E io ho una sorpresa per te perché te la meriti, la manina del salutatore che sono io il salutatore Ciao 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 Ciao